Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, vi spiego come risolvere l'errore riguardo al msvcr100.dll che non si trova nella cartella di windows ovviamente per risolvere questo problema dicono di disattivare o riattivare windows defender e poi riavviare il sistema operativo ovviamente no, se non c'è nella cartella di windows system 32 o windows del system 64 dobbiamo scaricare il file e metterlo in quella cartella quindi in questo caso che ti porterà così su questa pagina del dllfiles.com ovviamente è in linea dal 1998 ed è ancora un ottimo sito, un ottimo supporto per il nostro pc quindi noi adesso andiamo a scrivere msvcr100 facciamo invio, ecco qua il file, questo, ci clicchiamo sopra e scarichiamo così l'architettura allora l'architettura 32 bit, l'architettura 64 bit se non sai che tipo di sistema operativo hai, vai su logo di windows, sistema tipo sistema, sistema operativo 64 bit il mio è 64 bit e vado a scaricare questo qua e faccio scarica ovviamente sul desktop uscirà così un pacchetto rar, pacchetto zip da estrarre con winrar quindi ti consiglio di scaricarti pure il programma winrar per estrarre i file zip winrar, extract to msvcr la cartella e questa è la cartella, il file dll che me lo segna come un documento, però è un file dll quindi ora che faccio? prendo questo file, quindi faccio direttamente copia vado su questo pc tutti hanno il questo pc e disco locale c con il sistema operativo sopra ci clicco sopra qui scendo fino giù fino a trovare windows scendo fino giù fino a trovare il system 32 e faccio ctrl v sostituisci i file nella destinazione ovviamente io avevo già questo file però lo metto lo stesso se non dovesse funzionare con il system 32 scendo fino giù fino a trovare il syswow64 questo qua per il sistema operativo 64 bit facciamo ctrl v e lo mettiamo dentro sostituisci i file nella destinazione ovviamente come ho detto già lo tengo questo file però era per farvi vedere come funziona ed eccolo qua una volta fatto prima di avviare il tuo programma o gioco o qualsiasi cosa che hai avviato e poi ti è uscito quell'errore riavvia il tuo sistema operativo prima di fare quella procedura quindi riavvia il sistema una volta fatto puoi anche cancellare questi pacchetti perché poi non ti serviranno più quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao